Per questo motivo il premio manente 2015 va ad Armando Quattrone Dalla Calabria alla Germania, Armando Quattrone Complimenti Armando Positivo, fiero di te Che bello essere qui, mi avete premiato la prima volta che sono venuto qui Penso che ci tornerò volentieri di nuovo Non so che dire, ho scoperto un pezzo di Calabria che non conoscevo ancora E vi porterò nel cuore ovunque andrò in giro per il mondo dove la musica mi porterà Grazie ancora Sono molto contento che con questa occasione del premio manente Mio fratello con quello che ha fatto contribuisca alla conoscenza di ragazzi 2150 visualizzazioni sul canale YouTube del premio manente Premio social balla crocchio Amici venite da questa parte A chi? Al leader del gruppo? Non c'è di Alziamolo su Complimenti premio social Al premio manente 2015 Ecco qui Premio miglior regia Complimenti Complimenti Grazie mille Grazie per la postazione Penso non ci siate più Perché il premio miglior brano al premio manente 2015 Lo vince Terra d'acqua e fuoco Maria Teresa Lonetti Regia di Massimo Spadotto In arte Age Max Tra l'altro un brano bellissimo Meritatissimo Un omaggio alla Calabria Alle sue bellezze Alle sue storie E alle inquietudini che la caratterizzano Questa dicitura è della professoressa Scorpiniti E' stata attenta Premio speciale 2015 Vagli Sventurati Band Un riconoscimento perché comunque Sventurati Band Premio speciale 2015 Un premio speciale per loro che sono venuti dalla Puglia Da Ostuni Qui in terra di Calabria Insomma con la pizzica e le tarantelle ci capiamo bene Complimenti a tutti Io voglio solo dire che come avete notato ormai il premio viaggia fuori E di questo siamo molto orgogliosi Ci sono ragazzi pugliesi Armando che viene dalla Germania Quindi ha sentito parlare in Germania di questo premio Tutti i ragazzi In particolar modo Su un progetto Che quando mi venne proposto Insomma lo studiamo anche con un'età In quel momento Ha dimostrato che la televisione calabrese In particolar modo Videoclub In particolare quel gruppo di persone Che si era raccolto intorno a quel progetto In particolare quel gruppo di persone Come uno santo La cosa mia La più Redditizia anche Tradotta anche in giapponese Ti avete sentito nella interpretazione Non di Checco Manente Io non l'ho conosciuto come Checco Io l'ho conosciuto come un fratello Non so chi era Scorpiniti che poi è diventato medico Ecco qui Consegna del premio E poi diamo tutto Immortaliamo questo momento Raffaele Raffaele Ovviamente vuoi ringraziare Otello per essere stato qui Sì ringrazio Ringrazio Otello Perché Non Ecco Faccia Perché c'è un Certo che C'è un grande legame C'è un grande legame Anche perché Siccome Casi chiamato Bene Cannonzi cacciato Va bene Chiamato Maestro Maestro Dello Propazio Grazie Voglio vi dire su bucello Chi c'è Voglio vi dire su bucello Chi c'è Chi c'è Io vorrei Ringraziare anche Il professore Luigi Montoro Cultore Destino Nelle piazze calabresi Flavia Bene Proviscono molto Entro io Tanto successo Sicuramente un grosso In bocca al lupo A Flavia Ringraziamenti Alla Marasco Comunicazione Volendo volare Volendo volare Dell'altro I presento Dell'altro imanto Ti ricordi Quel tramonto Dove colori Ognuno è legato Quindi di un'estensione Molto ampia E l'uva da lui Voglio ammasare E l'uva da me Murire Mi Quindi vi siete dovuti Cimentare Assieme al vostro regista Che è appunto E l'uva da lui Abbiamo uno Ecco là E l'uva da lui E l'uva da lui E l'uva da lui L'uva da lui E l'uva da lui Purtroppo come tanti è dovuto uscire dalla Calabria per poter perseguire questa sua grande passione. Tra le tante cose importanti che ha fatto ha debuttato nel 2008 come Ismaele nel Nabucco di Verdi al Teatro Reggio di Parma e successivamente ha interpretato Alfredo nella Traviata e poi è diventato uno dei... Paraschino arriva per questo riconoscimento tutto speciale e particolare. Grazie mille, portalo a casa, giriamolo un po' così. Ma io dopo aver omaggiato così Oreste davanti a questa bella Madonna che ci accompagna e ci fa piacere darti questo riconoscimento alla memoria di tuo padre che sempre con noi sarà sempre con il premio manente. Grazie a tutti. Gaia Cuzzocrea riceve il riconoscimento speciale da parte di Don Matteo Giacobbe, rettore del santuario, che ci raggiunge e consegna appunto il riconoscimento a Gaia, la figlia di Stefano Cuzzocrea. Perché un abbraccio da un prete, da una figlia è quello che ci sembrava più giusto. Va bene. Io, lei mi ha detto, non chiedermi niente, non farmi parlare, non sono abituata. A Don Matteo il riconoscimento da parte del premio manente per la quarta edizione. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata a Toghese. Grazie. Ritorni pure al suo posto. Che sarà? Gli amici miei sono quasi tutti via. Stavo bene in loro compagnia. Mi dà chi lo sa Come porto là Non salva la tua coscienza Perché non senti quel battito che Oh, io, io, io Pam, 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 baila, la, la, la Pam, 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 baila, la, la, la Ok. Io non ho parole Perché perdere fa male Da qui nasce La Dea Venere Na, 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 na Cercala Su Palli di Calabria Ma mi piaci come sei Viero di te Viero di quel che sei In particolar modo Su un progetto Che quando mi venne proposto Quando lo Insomma lo studiamo Anche con un'età In quel momento Ha dimostrato Che la televisione calabrese In particolar modo Videoclub In particolare Quel gruppo di persone Che si era raccolto Intorno a quel progetto Che stoccoli Corona Devasa Ma E quando Frecchiava Claire I.o. I.o. So No 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 No